Allora, ringraziamo l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di creare questo bike park per i bambini e in più i due percorsi, uno da 1500 metri e uno da 3000. I maestri della scuola mountain bike sono tutti maestri federali e al cospetto della federazione abbiamo qua il presidente Gianni Vietri, abbiamo Rocca consigliere regionale della federazione in blu abbiamo ex professionista e direttore sportivo Gian Paolo Cheula in rappresentanza come presidente della provincia. Complimenti per questo circuito veramente molto bello, un ringraziamento quindi anche all'amministrazione comunale che ha collaborato con voi per dare a noi portori del ciclismo questo anello. Il futuro sicuramente federale deve essere questo, bisogna dare la possibilità ai ragazzini di correre sia sul fuoristrada che sulla strada e poi dare la scelta a loro, poi quando diventeranno più grandi, quale strada per correre. Andino A Tutte le loro doti di equilibrio e di presa di visione del terreno e sapersi comportare in base al terreno. Tutte le loro del terreno e sapersi comportare in base al terreno e sapersi comportare in base al terreno. Tutte le loro utile e sapersi comportemente dagen. Tutte le loro utilee il terreno a teaches Bizote. Tutte le loro utile e riccita 튀어나vate al terreno eghiella d' villains.